Nel dramma io sono un narratore e un personaggio Non ho gustato un solo boccone di questo pranzo a causa delle tue interminabili dissertazioni su come mangiarlo Una madre, Amanda Il temperamento di un tenore d'opera Un figlio Vieni a sequestrarli libri Hai avuto il fegato di sequestrarmi i libri Mamma Una figlia Laura Ho paura che io diventerò una vecchia zittà E Jim Anime di vetro Una vedova inconsolabile Una governante servizievole E un ospite inatteso Governante Governante Che si è? Fatemi capire Un uomo Sua moglie I danni del tabacco E i danni dell'anima 25 maggio 2019 Ore 20 e 30 Teatro civico Gavino Ballero Alghero D Lehrer Vicino Hanno Viene Hair Poi